Uè, finalmente posso dirlo, ho sempre sognato di farlo, questo video io non lo volevo fare! No ma davvero, hai nel senso, in realtà volevo fare un video sui vaccini anti-influenzali, come suggerito da qualche iscritto, solo che poi mi sono reso conto, mentre lo facevo, che i Novax ripetono ancora sempre le stesse cose, semplicemente riadattandole ai nuovi vaccini, quindi insomma, anche basta dopo un po', no? Ma proprio quando stavo per gettare la spugna, sono finito nel magico loop dei post a tema Qualcuno pensi ai bambini! E niente, ho scoperto un sacco di mirabolanti metodi per torturare e uccidere i bambini No, sta, 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 mi è uscito un po' male, YouTube, oh, tira sul dito da quel tasto ban, non ci provare, YouTube, guarda che Io, io, i bambini, ti giuro, io i bambini li amo, li adoro, io passerei ore ad accarezzarli Ok, questa mi è uscita un po' male Signore e signori, bentornati all'Infiltrato, la serie nella quale indago i fenomeni più strambi del web, fonte inesauribile di stramberie, e quindi è una serie pressoché infinita Chiunque sia entrato anche solo vagamente in contatto col mondo del complottismo lo sa bene L'obiettivo primario dei malvagi, oscuri e demoniaci poteri forti che controllano il mondo sono i bambini Perché, appunto, sono malvagi Oggi, quindi, scopriamo insieme i principali metodi con cui le lobby che controllano il mondo attentano alla vita dei nostri amati pargoli Le vedete queste? Mi sono insegnato di fare sta gag da quando mi avete detto che assomiglio a Piff Queste sono il motivo per cui ho smesso di fare video su Novax e affini Avete idea di quanto tempo serva per star lì a verificare ogni singola cagata che dicono? Vi faccio giusto un esempio e poi ci limitiamo a commentare con qualche battutina i post Che non ho la minima voglia di fare un video serio Tanto, come al solito, per chi vuole, lascio le fonti in descrizione Così che possano verificare come mai ogni singola cosa detta in questi post sia una cavolata antiscientifica Bambin Gesù, rischio morte improvvisa per un ragazzo su dieci COSA? È come se è possibile che una notizia del genere sia completamente passata inosservata Risposta A, i poteri forti ce la nascondono ma si sono dimenticati di censurare la ricerca Oppure risposta B, è una bufala Ma come risposta A? Andiamo con ordine L'ospedale ha davvero pubblicato uno studio? Da qualche parte devono pur partire Ricordatevelo, le bufale hanno sempre una base di verità Poi ovviamente non azzeccano lo scopo Visto che parlano di morti improvvise Mentre nel paper si parla di idoneità all'attività sportiva agonistica Leggermente diverso Non azzeccano le percentuali Visto che parlano di 1 su 10 Mentre nella ricerca si arriva ad un 3% Non azzeccano le età Visto che parlano di 10-17 anni Quando invece sono 8-18 Danno la colpa ai vaccini Quando non solo la parola vaccino non compaia neanche una volta nella ricerca Ma non era neanche stato verificato Quali vaccini avessero fatto i partecipanti allo studio Quindi sì Non hanno neanche avuto lo sbatti di leggersi i testi Hanno aspettato che lo facessi io 12 pagine di paper In italiano e in inglese Scritte in medicalese Di un argomento di cui non me ne fregava niente Grazie Ma naturalmente A chi frequenta questi circoletti elitari Di pensatori indipendenti Non gliene frega niente di verificare le cose Non se ne può più Ma quando lo aboliranno il vaccino universale? Quello che hanno detto sui bambini delle miocarditi Sicuramente è falso Sono molti di più Oltre il 60% Ma sì Ma che serve fare le ricerche apposta per stimare i valori? Diamoli noi a caso A sentimento Tu dici 60 Io dico 80 eh Ci sta 8 ragazzi su 10 Che esplodono all'improvviso Mentre fanno uno scatto per prendere lo scuolabus Secondo me Oltre alla depopolazione Interessava anche raccogliere diverse serie di dati Ad esempio sui nanobot autoassemblanti Anche secondo me Però per non destare sospetti Hanno pubblicato un paper Dicendo che un ragazzo su 10 A rischio morte Così Giusto per passare inosservati Naturalmente sui vaccini anti-influenzali Usati dall'elite Per danneggiare le popolazioni Potrei farci un colossal di 4 ore Ma visto che vi voglio bene Vi dico giusto un paio di highlights Dai bambini distrutti con coaguli di un metro? Il rocco si fredi dei coaguli? Ma ste madri rintronate Hanno ancora un po' di istinto materno Fosse danneggiato mio figlio Andrei a fare giustizia come si deve Eh già signora mia Quale potrebbe mai essere il motivo Per cui nessuna madre è andata a protestare Dopo aver trovato un salame ungherese Incastrato nelle arterie del figlio? Quale potrebbe mai essere il motivo? Perché sono degli inferiori Inutile perdere energie Esattamente Anche a me è successo la stessa cosa Ma guardi ho il sospetto che se fosse successo anche a lei Ora la sua priorità non sarebbe quella di condividere la sua esperienza su Telegram Signora Quello non era un coagulo di un metro Quello era il risultato della digestione del kebab completo di Hassan della sera prima Ma non solo Ma lo sapevate che i vaccini sono la causa di tutte le patologie I bambini che non vengono vaccinati non sviluppano alcuna malattia da adulti Ecco gli studi Infatti le malattie non esistevano prima dell'invenzione dei vaccini Manzoni era un poser I vaccini sono tutti uguali Pediatrici o covid Hanno tutti gli stessi effetti di intossicazione E la storia sarebbe lunga Ma sì infatti a me una volta hanno iniettato l'enterogermina Perché i vaccini erano finiti Tutta la stessa roba Comunque Come vi ho anticipato I vaccini non sono l'unico meccanismo per fare la bua ai nostri bambini Si sono inventati molto di peggio Lo sapevate che immettono di nascosto il fluoro nell'acqua per renderli più stupidi? E non solo nell'acqua Ma financo nei dentifrici Maledetti quei famosi nove dentisti su dieci Quando facevo le elementari a scuola ci davano le compresse di fluoro sti stronzi Ti devo dire Vi devo dire Forse forse allora è vero Noi degli anni sessanta siamo stati cavie inconsapevoli Ma non vi rendete conto che vi state dando negli ebeti da soli? Anch'io quando andavo a scuola ce le dava ste pasticche di fluoro Adesso il dentifricio non lo uso Andassero tutti a fancù È il grande dilemma La grande scelta della vita Essere stupidi o avere l'alitosi perenne Ah, menta Che altro possiamo fargli a sti bambini? La droga Sì esatto La droga Un tema del quale si parla troppo poco è quello dell'enorme aumento del consumo di droghe pesanti nei giovanissimi Ormai non si tratta più di ragazzi bensì di bambini che iniziano a consumare eroina e crack dai dieci anni di età Le scuole italiane sono diventate la più grande piazza di spaccio di stupefacenti al mondo Ormai se entri in una scuola elementare tutti i bambini sono per terra sdraiati con le pere nel braccio I giovani vengono ormai manipolati volutamente sin da bambini attraverso propaganda, indottrinamento, lobotomizzazione da social, droghe pesanti ed altro ancora Il fine è poter meglio dominare masse di schiavi Guarda effettivamente devo ammettere che se avessi dovuto sorbirmi Peppa Pig di prima mattina prima di andare a scuola Probabilmente anch'io mi sarei drogato eh I generi musicali più ascoltati dai giovani non fanno che apologia all'uso di droghe pesanti Il sistema vuole popoli deboli e la diffusione di tali droghe contribuisce a far ottenere loro questo risultato Lo sapevo È colpa di sfera e basta Mi chiedo come sia possibile che bambini di dieci anni abbiano tutti i gradi di libertà per poter acquistare e consumare prodotti di un mercato quale quello delle droghe Eh la svolta è stata quando hanno aggiunto al boschetto di drogoredo la piscina con le palline colorate Eh i bambini poi viene voglia di andar lì per giocarci e una cosa tira l'altra Una società alienante che nessuno tende a voler migliorare Una scuola veramente promotrice di una società più sana e giusta già sarebbe un modo per arginare questa deriva Oh appena hanno l'occasione per poter appioppare qualche colpa all'istruzione Subito eh Oh amiche insegnanti alcune dicono che nelle scuole si sta iniziando il modello americano di far spostare gli alunni di aula invece dei prof Questo movimento dei ragazzi aiuterà secondo me il passamano di sostanze da un alunno all'altro Anche per caso Eh sì perché è quello il momento di maggior pericolo eh Quando passeggiano per i corridoi e rischiano di urtare le siringhe che fuoriescono dalle tasche dei bambini trocati Per il resto della giornata poi vabbè si sta tranquilli Boh che altro possiamo fargli a sti bambini I bambini vanno indottrinati da piccoli per questo finanziarono il femminismo Il femminismo? Sono tutto orecchi Con il femminismo le donne portano a scuola i bambini in tenera età Possiamo indottrinarli, rompere le loro famiglie e fargli considerare lo stato come famiglia Ammetto che questa non l'ho capita neanche io Beh è colpa del femminismo se i bambini vanno a scuola? E poi naturalmente il gender E qua so già che entro in un campo minato Il punto è che la ricerca non dovrebbe far paura Indagare un determinato fenomeno non vuol dire automaticamente legittimarlo Se un'università fa una ricerca sulla marijuana non è che mette su un coffee shop in cui vendere le cannette Ma loro niente prendono subito i forconi e cominciano a parlare di pedofilia E cosa c'entri la pedofilia con la disforia di genere lo sanno solo loro Università di ingegneria sociale Poveri bambini Ma io dico ma se c'è un bambino che si sente a disagio e non è chiaro il motivo per cui si sente a disagio Servirebbe appunto una ricerca per chiarirlo Ma non è forse un po' più violento metter su un baraccone in cui gli si fa pensare che tutti vogliono Stuprarlo piuttosto che fare una ricerchina Chi decide che un bambino di 5 anni è trans solo perché gioca con la bambola? Credo che la medicina sia un pelino più complicata di così È chiaro che vogliono sdoganare la pedofilia attraverso l'ideologia gender O niente contro gay, lesbiche eccetera, liberissimi di fare quello che vogliono No no ma ci mancherebbe niente contro di loro, eh Gli hai solo appena dato dei pedofilia Ritirate i bimbi dalle scuole piuttosto che a 20 anni vi ritrovate in casa un culattone cerebroleso Eh ma guarda che poi a casa si ascolta Sfera e Basta, è un casino Cioè, preferisci avere un figlio drogato o culattone Che magari ammazzerà i genitori No ma sia tranquillo ma non sono violenti Al massimo se li incula Oh ma al che vada se il laboratorio non funziona Prendi un microchip e glielo piazzi nel braccio Per evitare che cresca e renderlo trans Sembra un'epidemia In America i ragazzini e soprattutto quelli figli delle star Stanno diventando tutti trans e diversi anche in Italia Figli di gente conosciuta Lo fanno tutti ormai, eh Tipo il figlio di... 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 di quello lì Di coso... O quell'altro Vabbè qualcuno lo farà dai Ma se anche questo non dovesse bastare per traviare i nostri poveri bambini Non ci resta che passare alla soluzione più drastica Causare aborti a manetta per non farli nascere Però sai cosa? 30 è un po' pochino Facciamo 74 e vendita ai forni crematori? Così ci piazziamo anche un rimandino ai nazisti? Ancora no? Mi vuoi proprio rovinare Dai, 80 e non se ne parla più Ok? Andata? Andata Anche perché coi feti abortiti ci puoi fare un sacco di cose Li usi come insaporitore nel dado star Ci fai le pastiglie per il mal di gola Se proprio non ti va di abortirli Al massimo poi li usi come fabbrica di adrenocromo Dai I bambini sono come il maiale Non si butta via niente E per oggi è tutto Madonna quanto entusiasmo E per oggi è tutto Spero che il video vi sia piaciuto Nel qual caso lasciate un mi piace Un commento Condividetelo E perché no iscrivetevi al canale Così vi potete guardare tutte le puntate Delle tre stagioni dell'infiltrato Così avete le sere occupate fino a dicembre Io vi saluto Vi do appuntamento alla prossima puntata E niente Voglio trovarmi qui Su Spotify Se cercate Grosso Sono sbarcato anche lì con le mie canzoni Su Instagram Su TikTok Su Telegram Ovunque Tutto in descrizione E mi raccomando Qualcuno pensi ai bambini